Vanda Nara viene allo scoperto con il fidanzato elegante, e ora di mormora che si è incinta del rapper dalla chioma ossigenata. Vanda Nara è incinta, questo il gossip del momento sull'ex moglie di Mauro Icardi, che sarebbe in dolce attesa del nuovo compagno elegante. Notizia che avrebbe portato Mauro Icardi a lasciare in fretta e furia Istanbul per raggiungere a Buenos Aires. Ma sarà veramente così? Vanda Nara esce allo scoperto con elegante. Il matrimonio di Vanda Nara e Mauro Icardi è naufragato e la coppia non sembra pronta per l'ennesimo ritorno di fiamma. Del resto i due avevano già provato a ricostruire il rapporto dopo essersi lasciati una prima volta, tra un mare di polemiche e ripicche social e non, ma la cosa non ha funzionato ed ecco che Vanda ha chiesto nuovamente il divorzio a Icardi. Nelle ultime settimane la coppia è tornata al centro dei pettegolezzi quando Mauro si è infortunato e ha dovuto salutare con largo anticipo la stagione calcistica, con grande rammarico suo e dei suoi fan. Proprio loro, infatti, hanno accusato Vanda di non essere stata vicina al padre dei suoi figli in questo momento delicato, pur sapendo benissimo come funziona il mondo del calcio visto che l'ha vissuto in prima persona durante il loro matrimonio, essendo la sua procuratrice. Nara ha replicato pubblicando sui social la chat con l'ex marito mostrando di essersi interessata alla questione, consigliando al calciatore di farsi operare in Italia dove ci sono i migliori medici nel campo, ma anche lasciando intravedere chiaramente il messaggio precedente di Icardi. Nel messaggio, Mauro chiedeva ancora a Vanda di tornare insieme, di riunire la loro famiglia e tornare a fare coppia come si erano promessi all'altare. Una richiesta che, tuttavia, è per lei impossibile dato che la presentatrice argentina ha un nuovo amore ovvero il rapper Elegante. Vanda Nara è incinta di Elegante. Dopo aver messo in chiaro che con Mauro Icardi non ci sarebbe stato alcun ritorno di fiamma, Vanda Nara è uscita allo scoperto con il rapper Elegante del quale sembra davvero molto innamorata. La coppia si è mostrata serena e felice sui social, con scatti sensuali senza veli e durante le serate mondane, ma anche momenti simpatici insieme ai figli della showgirl. E poco dopo giorni, ecco che la giornalista Janina Latorre ha dichiarato di essersi messa in contatto con Elegante che gli avrebbe riferito che Vanda è incinta, e sta finendo il secondo trimestre di gravidanza. Mentre la bella argentina non ha ancora parlato della questione, il giornalista Pepe Ochoa ha lanciato un'altra bomba gossip, dichiarando che Mauro è venuto a conoscenza della gravidanza di Vanda ed è corso a Buenos Aires nella loro villa in comune.